questa è l'introduzione di sly 1 che si parte a parigi in francia alle 4 del mattino guarda che sta facendo sly cooper sta andando sui tetti di parigi si diverte tantissimo a fare il ladro davvero non deve farsi beccare dalla polizia se volete giocare a sly 1 tanto è lì che vi aspetta così farete il primo prologo la prima avventura di sly cooper ma ricordatevi che qui si parte al quartier generale della polizia dove c'è carmelita fox che contiene i suoi documenti ok arrivederci io vi devo salutare sly 1 è lì che vi aspetta se volete cominciare arrivederci